Si chiama L'amore non uccide, l'evento presentato questa mattina all'auditorium Cianfarani di Chieti è voluto dalla rete antiviolenza del comune per parlare di femminicidio e delle azioni di tutela sul territorio cittadino messa in atto dall'amministrazione comunale. La manifestazione si terrà giovedì 7 ottobre nella sala di rappresentanza della prefettura. Si tratta di un'iniziativa a cura della rete antiviolenza del comune teatino che unisce prefettura, amministrazione comunale, tutte le realtà di intervento finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della violenza di genere ma sarà anche un necessario momento di confronto e di riflessione anche alla luce delle recenti modifiche normative sulle problematiche connesse alla violenza e alle discriminazioni di genere. La rete cittadina antiviolenza quindi per la prevenzione della violenza sulle donne è ormai consolidata da diversi anni. stiamo insieme con la cooperativa Alfa, la dottoressa Maria Laura di Loreto organizzando una serie di incontri proprio di formazione e di consolidamento della rete su questa tematica certamente così importante sulla quale ovviamente anche la formazione dei giovani è molto rilevante e che ha soprattutto l'obiettivo appunto questo obiettivo di disvelamento delle situazioni diciamo di violenza all'interno delle famiglie che diciamo la parte più subdola di questo fenomeno che è più difficile da riscontrare e da portare alla luce. Questo diciamo intervento che si terrà appunto giovedì pomeriggio alla prefettura è un che ovviamente la prefettura è uno dei partner importanti di questa rete antiviolenza è un intervento molto rilevante sulla tematica del femminicidio con appunto delle relattrici illustri e fa parte appunto di questo ciclo di interventi di formazione che sono stati organizzati nell'ambito appunto della rete antiviolenza. È solo una tappa di questo lungo percorso che abbiamo iniziato ormai sei anni fa e che vede come tappa fondamentale la presenza della senatrice Valente che ci porterà proprio gli aggiornamenti e le indagini che la commissione nazionale sul femminicidio ha portato avanti perché sul nostro territorio nonostante le leggi esistono delle carenze dei vuoti che non consentono ancora oggi di come dire sconfiggere completamente il fenomeno della violenza di genere e quindi è una tappa molto importante perché avverrà in un contesto istituzionale come la sala della prefettura anche alla presenza del questore del sindaco dell'assessore Maretti e di una docente dell'università di Bologna che è anche referente dell'osservatorio nazionale sul femminicidio. Saranno dati freschissimi e quindi consentiranno a chi parteciperà di essere a conoscenza in maniera più chiara di quanto questo fenomeno sia vasto.